La missione per cui vi chiedo di offrirvi volontari è estremamente rischiosa. Guardate l'uomo che avete accanto. Potete scommettere che tra sei settimane, lui o voi, sarete morti. Chi è abbastanza coraggioso per non rinunciare, faccia un passo avanti. Chi è abbastanza coraggioso per non rinunciare, faccia un passo avanti. Chi è abbastanza coraggioso per non rinunciare. Il dono della venuta del Papa deve coincidere con una ripresa del senso della presenza del successore di Pietro nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità cristiane. La sua venuta è straordinaria, ma la sua presenza è ordinaria. Chi è abbastanza coraggioso per non rinunciare. Chi è abbastanza coraggioso per non rinunciare. Grazie a tutti. Grazie.